Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Quasi Vero, oggi vi voglio parlare di un film che per me è molto problematico, molto difficile da giudicare, che non ho mai capito se mi piace veramente oppure no, se considero bello oppure no. È La Stanza del Figlio di Nanni Moretti, un film intorno al quale farò sicuramente spoiler in questo video, quindi diamo per scontato che l'abbiate visto, un film abbastanza vecchiotto. È stato ridato in televisione da poco, perché come forse saprete sulla sette la domenica fanno questa rassegna di tutti i film di Moretti con una piccola introduzione recente fatta adesso dell'autore, che può essere interessante per chi lo apprezza, e le pubblicità messe bene, cioè messe dove il film fa una pausa, quindi si riesce a seguire bene anche televisivamente, cosa che non è quasi mai con i film. Quindi è anche l'occasione per recuperare film di Moretti che non si sono visti, La Stanza del Figlio l'avevo già visto all'epoca. La mia ragazza ad esempio non l'aveva visto e nell'introduzione Nanni Moretti le ha spoilerato il punto focale della trama, quindi davvero bisogna sapere cosa succede in questo film. Cosa penso di questo film? Perché questo film per me è problematico? Partirò col dire che Nanni Moretti mi piace, mi piacciono soprattutto i suoi vecchi film, perché sono buffi, sono divertenti, sono surreali, sono la testimonianza di un'epoca, e perché Nanni Moretti quando interpreta più o meno palesemente se stesso sullo schermo fa molto ridere, è molto surreale e buca il video assolutamente. E' lui ed è un personaggio, nel senso lo trovo davvero intrattenente, interessante, eccetera. Palombella Rossa è uno dei film della mia vita, è uno dei film che amo di più in assoluto, io sono nato e cresciuto a Bologna, dove l'illusione del comunismo, un comunismo ovviamente non di stampo sovietico, ma molto così idealistico all'italiana, si è infranta di fronte alla realtà di una politica che se l'è divorata, quella vecchia partitocrazia, e quindi per me Palombella Rossa parla di una situazione che ho visto, che ho vissuto, che ho sentito, e poi è un film sensibile e profondo nel parlare di un'Italia e di un'illusione che molti italiani hanno covato. Lo trovo un film magnifico, bellissimo, un capolavoro assoluto per quanto mi riguarda. Altri film di Nanni Moretti mi piacciono tantissimo, però più si va avanti, meno mi piacciono i film di Nanni Moretti, più o meno. E La stanza del figlio è il primo, uno dei primi di Nanni Moretti, che iniziano a mettermi in difficoltà, iniziano a piacermi meno. Innanzitutto La stanza del figlio è un film che è un film normale, potremmo dire, non ha il solito tocco surreale alla Nanni Moretti, il personaggio interpretato da lui nel film non è di fatto Nanni Moretti, ma è un personaggio X, e lui non è un grande attore. Lui buca il video, è fantastico seguirlo, e in tanti film è divertente, lui non è un grande attore, e quel personaggio lì, in coppia con Laura Morante, non è sempre credibile. In alcuni frangenti sì, in alcuni frangenti il fatto che lui non sia un grande attore, non sia un attore, secondo me, funziona, perché il film è un po' documentaristico, quindi riesce a tenere normale questa famiglia, non è una famiglia di bravi attori che recitano una famiglia, grazie anche a Nanni Moretti è una famiglia normale, quindi in alcuni frangenti mi funziona e mi piace, in altri frangenti scene d'affetto con Laura Morante soprattutto, o scene quasi sensuali, è gelido, mi fa venire il latte alle ginocche e fa anche un po' venire i brividini, se devo dire la verità, proprio non credibile. Quindi questo è un difetto un po', vogliamo dire, tecnico del film, che non lo trovo così riuscito, non sempre, in alcuni punti sì, in altri no. Ma non è questo il problema. Il mio problema con la stanza del figlio è che se mi chiedi se mi piace durante i titoli di coda, quando l'ho appena visto, ti dico che è un film meraviglioso, ma se me lo chiedi dieci giorni dopo ti dico boh, forse non mi è neanche rimasto così tanto, e forse ho qualcosa da ridire sulla... È un film un po' furbetto, è un po' facile come film. Parliamo della storia. Una coppia ambientata ad Ancona, scopro tra l'altro vedendo la prefazione che ha fatto Nanni Moretti proprio l'altro giorno sulla sette, e questa coppia ha due figli, uno di questi due figli muore in modo accidentale, lui è uno psichiatra, lei non mi ricordo che cosa fa, insomma è una professionista anche lei, sono abbastanza abbienti, una cosa tipica di tantissimi film italiani è che questa gente abita in degli appartamenti da 300 metri quadri, wow, complimenti. Comunque, sono abbienti, famiglia di libri, di letture, eccetera, ma molto normale. Muore questo ragazzo, ed è la storia di questa tragedia. Vissuta da una famiglia normale, viene quasi da dire in modo normale, la tragedia della morte del ragazzo è naturalmente la tragedia di un discorso interrotto, come è la morte di qualunque persona, purtroppo anche la più realizzata, soprattutto in questo caso. Un discorso interrotto il rapporto tra il padre e il figlio, perché soprattutto sul padre è chiaramente che il film si concentra, ma in generale è qualcosa che spezza l'armonia familiare, come è logico che sia. sciogliendo molto i rapporti tra i membri della famiglia, fra lui e Laura Morante soprattutto, la famiglia viene in qualche modo, non si capisce se sarà distrutta o meno, forse no, però viene, la sua solidità e la sua coesione vengono provate molto duramente e probabilmente, anzi, certamente non saranno più le stesse di prima. In più c'è l'impossibilità di elaborare un lutto così assurdo, così senza senso, così ingiusto. È anche una cosa poetica il tentativo che hanno i genitori di occuparsi di quell'ultima ragazza che vide, che fu insieme al loro figlio in modo affettivo. E quindi tutta la parte finale del film, il bellissimo gesto del personaggio di Nani Moretti che decide di guidare fino in Francia per portare questi due ragazzini, e uno di questi due ragazzini è proprio lei. Sono cose anche dolci, no? Riesce a darti l'idea come potrebbe reagire una famiglia normale molto dignitosa, ma al tempo stesso devastata dalla tragedia. Ok, nessun problema con questo, queste sono le parti, questo è ciò che del film mi va bene, mi sta bene. Però non si può dire, secondo me, che sia un discorso così approfondito sul lutto, che sia un discorso così problematizzato, così critico su che cosa significa una situazione di quel genere. Noi sappiamo che il protagonista non riuscirà più a compiere bene il suo lavoro di psichiatra, sappiamo che vivrà un forte senso di colpa, sappiamo che la loro relazione di coppia subirà un duro colpo, ci sarà questo tentativo di essere buoni e di aiuto con questa ragazzina che è una cosa, una forma di legame con il figlio che non c'è più, è un dramma per tutti, ma poi il discorso si interrompe lì, non si sviluppa, non si problematizza più di tanto, il film finisce, ti ha dato un'istantanea quasi di un lutto normale in una famiglia normale, una tragedia normale, si potrebbe dire così. Però non c'è molto altro rispetto a questo. E in tutto questo, a parte un utilizzo che Nanny Moretti poi fa anche abbastanza spesso delle musiche che si può dire che sia poetico, ma a volte è un po' il videoclippone messo all'interno del film, cioè queste sequenze con la canzone pop di sottofondo che non è che siano proprio il modo più nobile secondo me di fare cinema, ma non importa, a volte ci sta, a volte no. C'è il problema del fatto che questo film è un film dalla lacrima facile, nel senso che la tua lacrima è molto difficile non commuoversi guardando questo film, ah quindi è un bel film? Non necessariamente, non necessariamente, è una lacrima troppo facile, se io ti faccio vedere una famiglia normale e ti faccio vedere un ragazzo che muore drammaticamente, ti faccio stare ancora un'altra oretta di film con questa famiglia che vive questa tragedia, ci sta anche che io mi commuovo, ci sta anche che io mi rattristi e provi dolore, ma questo non significa che il film è un grande film, capite? Non necessariamente il film che emoziona è un buon film, anche questa è una cosa sulla quale secondo me dovremmo riflettere, e tutte le volte che ripenso alla stanza del figlio a distanza di tempo penso, vabbè, mi hai fatto vedere la morte di un ragazzo in una famiglia di persone perbene, girato con un piglio che sicuramente mi ha fatto stare lì insieme a loro e quello che vuoi, anche se Moretti, Morante non sono, secondo me, una coppia così benvenuta bene, ma insomma. Però, qual è stato il significato di questa commozione? Qual è stato il significato di questo trasporto emotivo? Che cosa mi hai raccontato? Mi hai messo a schermo una tragedia e grazie che è tragico. Capite che cosa intendo? E quindi, secondo me, questo film di Nanni Moretti è un film un po' facilone, un po' facilotto, in fondo poco profondo, che va a scandagliare poco il discorso di questo lutto. Ci mostra delle emozioni con le quali è molto difficile non essere empatici, ci mancherebbe altro, ma non ci mostra altro. E quindi in realtà queste emozioni vengono in qualche modo rese come essenziali, come astoriche, acontestuali. E il film finisce, forse, il film è della lunghezza giusta, ma forse avrei voluto sapere di più, avrei voluto sapere come andava avanti la storia, per capire come veniva elaborato davvero questo lutto. Noi sappiamo solo che sarà difficilissimo farlo e che è stata una botta tremenda, ma poteva essere diversamente. In fondo, questo film che cosa fa di più rispetto a una normale ricostruzione di storica, magari un po' furbetta, che ci vuole far sentire tutte le emozioni dei protagonisti? nulla. Semplicemente questo episodio tragico è inventato e non è reale. Ma non ho molto più di questo e non ho delle grandissime prove di recitazione, soprattutto da parte di Nanni Moretti, che a volte lì in mezzo mi rende anche abbastanza straniante la compresenza con un'attrice come Laura Morante, capite? Che non è assolutamente l'attrice dei miei sogni, però è sicuramente una super 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 professionista. E quindi non lo so. Lo vedo e mi emoziona. Impossibile non emozionare. Volete vedere un film che emoziona? Guardate la stanza del figlio. Ma è solo quello? È solo quello. E non mi basta. Non mi è mai bastato e non sono mai riuscito a farmi davvero piacere questo film. E soprattutto, secondo me, è l'inizio di un Nanni Moretti che vuole fare film normali, tra virgolette, e forse fa film banali. Grazie. 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 Grazie.